dodo dodo mia madre dice sempre è il contadino che prepara il piatto dire che bisogna adattarsi agli ingredienti che si hanno al momento sono andato a osservare un pilota ma ne ho trovato un altro abbiamo fatto una bella chiacchierata mamma un attimo ti è bastato parlarci esatto vedi io faccio così se una persona è capace non prendo in considerazione solo le prestazioni valuto la persona chi è davvero i piloti migliori sono i migliori in ogni caso devo preparare i risultati per andare là questo qua lo metto e provare a tutti di che pasta sono fatto non lo metto sabato questo contratto qualcuno così poi però con obbiume che cazzo è questo non è che sono come serve il jeans questo mi serve questo jeans qua si armani jeans si armani jeans brucio ma le marche non mi piacciono ma le marche io voglio vedere gli occhini da soli belli questi eh 255 cazzo belli questi eh 406 armata ok cioè va bene magari un pantalone che sta a piazza italia ma quello guarda che quello che ho preso io lo preso dai cinesi alla fine cioè è bello lo stesso ma comunque lo preso dai cinesi non l'ho pagato quantissimo da un belacolo che avevo preso io a cosa l'ho preso a cazzurro un punto e sono anche belli come giusto c'era l'ho preso non mi ricordo se c'era l'offerta oh c'erano come 30 euro carini oh chi cazzo è questo è eseggiato da solo quello sta pure cosa sta nevicando siamo a mosca siamo anche la patta sulla neve poi più ghiaccio ah beh è vero che può essere questi arcini all'entr-r30 è visuale dietro mamma 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 com'è mamma non mi devo andare a scoccarci non male, mi aspettavo di vederti già fuori dalla guerra ma 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 come si è da qui? porca troia, ho sfrissato il culo sopra il garrayla salta, salta, salta sin parar sin parar sin parar sin parar, sin parar sin parar tomare orchia miseria e... a posto niente, via bravi tutti bravi tutti devo ancora provare la chiavetta z eh prova prova ha detto alcune alcuni cd non funzionavano quindi due cd forse non hanno funzionato mi sa che si molto cioè vabbè che gara e che vittoria che cazzo di sesso incasinata ma... che c'è dietro ma... ma anzi si e poi io ando avanti prima gara di sedeca come team che hanno già portato a casa dei punti questo nuovo pilota sarà il cosiddetto ingrediente mancante di tutto che ci ha parlato ma sta finita ma sta finita